Sergio, arrivano a fare tutti, tutti, andiamo presto Grazie 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 Oh, oh Anche che non va mica bene quello lì Rapporto Deve essere giù tutto Vieni qua, vieni qua Deve essere giù tutto Mi chiede un'altra bicicletta, e la sono no Vai No Eccuno di bicicletta, e la sono no cacavate E beh, vai Sto lì, ci ha giù tutto Dessa porta, porta È una toga all'uno È una toga all'uno Vai ah no, non è capisciolo, è culo ma come è trasferimento? se, noラ non è capisciolo, non è capisciolo, eも la cosa del linguaggio al Schweinello, questa cosa è un gruppo cinzante etc non hai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.